Buona domenica e ben ritrovati con InfoStudio, l'ultimo report dell'autorità nazionale antimafia conferma un primato di cui la Calabria farebbe volentieri a meno. Quasi un'impresa su tre, tra quelle che hanno ricevuto l'interdittiva antimafia si trova proprio in Calabria. Erano 176 nel 2018 con un trend in continua crescita che fa salire da quando è iniziato il rilevamento, cioè dal 2014, il numero totale a 549. Il 27% delle imprese raggiunte da interdittive antimafia si trova in Calabria. Il dato emerge dall'ultimo report dell'autorità nazionale anticorruzione elaborato sulla base delle informazioni contenute nel casellario informatico delle imprese, dal quale emerge la progressiva crescita del numero di queste misure dal 2014 al 2018. Se infatti nel 2014 le interdittive per le imprese calabresi erano state 28, nel 2018 il numero è arrivato a 176, passando per le 45 del 2015, le 134 del 2016 e le 166 del 2017. In totale nel periodo preso in esame le aziende raggiunte dai provvedimenti restrittivi emessi dalle prefetture sono state 549. Il trend non riguarda solo la Calabria. In tutta Italia le aziende che sono state interdette per contiguità con la criminalità organizzate sono 2044. Non solo, dal 2014 al 2018 si è registrata una crescita costante generalizzata in ogni zona del paese e si è passati dalle 122 interdittive del 2014 alle 573 del 2018 con un incremento pari al 370%. Nel complesso le aziende del nord interdette sono quasi quadruplicate, passando da 31 a 116, quelle del centro sono raddoppiate da 16 a 34 e quelle del sud sono aumentate di oltre 5 volte. 5 anni fa erano 75 quelle sospettate di vicinanza all'andrangheta, mentre alla fine del 2018 ne sono state contate ben 423. Come affermato dal presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, in occasione della relazione annuale al Parlamento, numeri di tali dimensioni sono sintomatici di quanto le organizzazioni criminali abbiano infiltrato l'economia legale. In percentuale il sud col 44,9% e di gran lunga l'area in cui il numero di imprese interdette abbonda. Seguono le isole con il 26,4%, il nord-ovest con il 12,3%, il nord-est col 10% e il centro col 6,4%. Non potevano che trovarsi in Calabria anche le province col più alto numero di aziende interdette. Ai primi due posti troviamo infatti Reggio Calabria con ben 222 imprese stromeste dai rapporti con la pubblica amministrazione e Vibo Valencia con 139 aziende. Dal terzo al quinto posto seguono Caserta, Messina e Trapani, ma le altre province calabresi sono anch'esse gravemente interessate dal fenomeno se consideriamo che in questa classifica al rovescio Catanzaro è al settimo posto con 82 imprese interdette, Cosenza al nono con 57 e Crotone al dodicesimo con 49. La Polizia ha nuovi distintivi di qualifica, sono stati presentati in coincidenza con l'anniversario della Fondazione del Corpo. Nel giorno in cui ha festeggiato il suo 167esimo compleanno, la Polizia ha presentato i nuovi distintivi di qualifica, ovvero quello che per le forze armate sono le mostrine coi gradi. Dopo 38 anni dalla riforma del 1981, che ha segnato il distacco dal mondo militare, dalla sua formalità e dopo la quale assistenti, sovrintendenti ed ispettori hanno mandato in archivio appuntati brigadieri e marescialli, si riafferma nella forma e nella sostanza l'identità della Polizia quale amministrazione civile ad ordinamento speciale. Col riordino del luglio 2017 sono state introdotte le ultime novità, col riassetto delle carriere e l'individuazione di nuove funzioni e qualifiche all'interno dei vari ruoli. Ed ora anche l'uniforme degli oltre 98.000 poliziotti italiani cambia aspetto. I nuovi distintivi di qualifica sono stati disegnati dall'esperto di araldica Michele D'Andrea ad accomunare passato e presente l'immagine rivisitata stilisticamente dell'Aquila, emblema dell'istituzione, la cui prima apparizione sulle divise risale esattamente a un secolo fa, al 1919. L'Aquila, che sarà presente in tutti i distintivi di qualifica, dall'agente al dirigente generale, sarà dunque l'emblema del legame identitario col passato. Per la prima volta, invece, compaiono il plinto araldico, costituito da una barretta orizzontale di colore rosso che rappresenta la struttura portante di un edificio per gli agenti e gli assistenti. Il rombo dorato, col suo profilo fusiforme che ricorda la punta di una lancia per i sovrintendenti. La formella, richiamo alla bellezza e all'eleganza propria del patrimonio di civiltà e cultura del nostro paese per i funzionari. I distintivi, uguali per tutti i ruoli, differenziano le funzioni tecnico-scientifiche e le attività professionali, attraverso il diverso colore delle mostreggiature. I nuovi distintivi, presentati in anteprima a Roma, dal capo della Polizia Gabrielli al Presidente della Repubblica, nel corso di una cerimonia presso il Palazzo della Consulta, sono poi stati presentati in tutte le questure italiane, calabresi comprese. E come ha sottolineato il questore Amalia Di Ruocco, nel corso della cerimonia svoltasi a Catanzaro, diventa definitivo l'addio alle stellette. In sostanza si perdono le stellette. Le stellette sulle mostrine furono tolte immediatamente. Adesso, anche nei distintivi, si perdono quelli che sono i tratti caratteristici del mondo militare. Anche per questo c'è stato un cammino, c'è stata una commissione presieduta dal professore di Alattica, D'Andrea, che hanno studiato come poter far riconoscere ai cittadini i nuovi gradi della Polizia di Stato. Città di mare, l'ultimo libro di Paolo Magris, è stato presentato in una città di mare calabrese a Crotone. In un paese che è penisola, il mare è un elemento fondamentale. Increspato di bianco, verdeggiante o trasparente, ne ha segnato ineluttabilmente la storia, ne ha cresciuto la gloria. Le città di mare possono sembrare tutte uguali e in realtà sono sempre diverse, sebbene condividano tutto quello che sul mare e grazie al mare vive e insiste. Poco più di un anno fa, nella Genova non ancora ferita dal crollo del ponte Morandi, si è svolto un ciclo di incontri dedicati alle città di mare ed è in quell'ambito che ha cominciato a prendere forma l'ennesimo capitolo della ricchissima letteratura legata al mare, ovvero l'ultimo libro dello scrittore e sceneggiatore triestino Paolo Magris dal titolo appunto Città di mare, edito da Rizzoli e pubblicato nel marzo scorso, presentato a Crotone nell'ambito del programma collaterale al campionato italiano di vela d'altura. Il volume è il rendiconto di come scrittori, artisti, studiosi, tutti nati o vissuti a lungo in Città di mare hanno esplorato il legame fra essi ed i luoghi d'origine o di elezione ed il mare e lo spazio che esso ha occupato nelle loro vicissitudini personali, culturali, sentimentali. Non solo Italia, ci sono Genova e Palermo, Napoli ed ovviamente Trieste, ma anche Dublino, Oslo, Marsiglia. Il mare, scrive Magris, è bisogno, desiderio, passione soggiogante, come se null'altro ci fosse, come se non si potesse vivere in un altrove in cui è assente. Io confesso che, nato in una città di mare, avrei una difficoltà enorme a trasferirmi in una città non di mare. Se si cresce realmente al contatto, non solo vicini, ma proprio se si cresce immersi in questo elemento, se ne trae, devo dire la verità, un bisogno molto profondo, molto radicato. Il mare diventa non un piacere, non uno svago, non un modo per passare il tempo, ma diventa una necessità. Questa necessità di perdersi, di far perdere l'occhio in una dimensione infinita, che è il mare, l'odore del salso, una dimensione veramente spirituale, ma molto, molto, molto profonda. Io questa la sento tantissimo e immagino che anche, per esempio qua che siamo crottone, molti possono condividere questo punto di vista. Ed è il momento di Io Scelgo Calabria. Io Scelgo Calabria, la grande rete della produzione e del consumo calabrese. Ogni giorno, in coda ai nostri telegiornali, vi mostriamo un pezzo di Calabria che lavora. Tutti assieme possiamo ottenere grandi risultati. Io Scelgo Calabria. L'idea l'hanno presa da un'esperienza vissuta, da un gesto visto e ripetuto nel corso degli anni tra i campi e i bergamotteti dell'Oione Reggino. Bergotto nasce così da una tradizione che, tramandata di padre in figlio, si trasforma in impresa senza perdere nulla del suo legame col passato e oggi festeggia dieci anni. Proprio quest'anno, a luglio, abbiamo iniziato a imbottigliare le prime bottiglie del Bergotto che abbiamo inventato qua, insomma, dieci anni fa, appunto, nel 2009. Da dove è nata questa idea? L'idea è nata dal fatto che noi producevamo liquori già a base di bergamotto, tipo liquori di bergamotto, crema di bergamotto, però l'utilizzatore finale è un po' selettivo, tipo gli adulti, posso parlare gli adulti, chi non piace, chi piace, chi non piace. Abbiamo pensato di fare un prodotto, volevamo appunto sfruttare questo bergamotto che prima il succo, per esempio, non veniva utilizzato per niente e ho iniziato a fare delle prove col succo, poi rendendolo gasato e, secondo una ricetta che usavano i miei nonni, nelle giornate d'estate per contrastare il caldo, prendevano succo di limone e succo di bergamotto e gli mettevano il bicarbonato per renderlo gasato e si creava una bibita molto dissetante. Ecco, da lì è nata questa idea, insomma, di creare questa bibita che noi abbiamo iniziato a imbottigliare e a far assaggiare, siccome abbiamo un agriturismo, a far assaggiare i nostri ospiti e siamo stati confortati dal fatto che è piaciuta subito, insomma, abbiamo iniziato all'imbottigliamento che facciamo nella nostra azienda stessa. Il bergamotto è un agrume che si sta scoprendo negli anni, se vogliamo, anche sempre di più fuori dalla Calabria. Sicuramente, sicuramente, è coadiuato pure dalla ricerca delle università e dai vari studi che hanno dimostrato che nel succo di bergamotto c'è la statina, le statine, la statina è un'altra che è il principio attivo che combatte il colesterolo e che quindi apporta, prendendo una razione giornaliera per 20-25 giorni, 200 ml di succo, riesce ad abbassare veramente il colesterolo. Voi quest'anno, tornando al bergamotto, avete una novità? Sì, abbiamo una novità che abbiamo fatto, oltre alla bottiglia da litro, abbiamo una bottiglia in P&T che serve pure per il vending, insomma, pure per distributori automatici, oppure per una forma di comodità, insomma, è una bottiglia apre e chiude, insomma, il tappo a vite. Che tipo di clientela avete? Cioè a chi riuscite a vendere i vostri prodotti? Beh, noi la clientela è molto vasta. Dal bambino di 3-4 anni, insomma, all'anziano, ecco bisogna dirlo, abbraccia tutta la clientela. Soprattutto poi col succo di bergamotto si abbraccia quella clientela che ha bisogno di un'alternativa naturale alle medicine, cioè per contrastare il colesterolo prendono il succo di bergamotto, insomma. Ecco, però pure il bergotto stesso contiene il 20% di succo di bergamotto e che contrasta pure, insomma, anche se non in una parte molto grande, però il 20% di succo è sempre una buona quantità e con una bibita. Grazie per averci seguito, il telegiornale termina qui, buona domenica ancora, a chi ci ha seguito appunto, torniamo domani. Grazie. 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 Grazie a tutti.